L'unica ad aver vinto tutte e quattro le partite giocate in trasferta in questa edizione della Champions League con un Messi ovviamente così nel motore che ha superato il record di gol di tutti i tempi del club è arrivato a 235 con i 55 che ha segnato in stagione una meravigliosa